Buongiorno a tutti e a tutte. È stato bandito il concorso per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si può presentare la domanda dall'11 dicembre fino al 30 dicembre entro le ore 23.59. Il totale dei posti è 10.677, comprensivi sia dei posti comuni sia dei posti del sostegno. I requisiti sono variegati. Innanzitutto bisogna avere una laura coerente con la classe di concorso, quindi le lauree elencate nelle tabelle delle classi di concorso più l'abilitazione. Altrimenti è possibile accedere al concorso attraverso una laura coerente sempre con la classe di concorso, comprensiva anche in questo caso di tutti i crediti formativi universitari o dei crediti formativi accademici, più tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni di cui almeno uno specifico all'interno della classe di concorso per la quale si vuole concorrere. Altrimenti è possibile accedere con la laurea coerente sempre seguendo le tabelle delle classi di concorso più i 24 crediti ottenuti entro il 31 ottobre del 2022. Altrimenti è possibile anche accedere al concorso tramite la laurea, i crediti per la classe di concorso scelta e almeno 30 dei crediti formativi universitari o dei crediti formativi accademici del percorso universitario dalla formazione iniziale del docente del DPCM del 4 agosto del 2023. Per gli insegnanti ITP invece è sempre possibile per quest'anno iscriversi al concorso tramite il diploma che dà accesso alla classe di concorso oppure attraverso l'abilitazione. Da quest'anno c'è la novità, è possibile accedere a concorso anche a coloro che risultano iscritti al percorso formativo iniziale, non soltanto a coloro che hanno già acquisito almeno 30 crediti universitari o 30 crediti accademici, l'iscrizione con riserva da sciogliere entro il 30 giugno 2025. Per quanto riguarda invece i posti di sostegno è necessario possedere il titolo di accesso alla classe di concorso più il diploma di specializzazione. In questo caso non è prevista l'iscrizione con riserva, dunque coloro che stanno frequentando il nono ciclo del TFA non possono iscriversi. Per quanto riguarda le prove sappiamo che non c'è nessuna prova preselettiva, abbiamo una prima prova scritta con 50 quesiti in 100 minuti, il punteggio minimo è 70 centesimi e passerà all'orale soltanto un numero pari a tre volte al numero dei posti banditi per la classe di concorso. Per quanto riguarda la prova orale invece sappiamo che la durata complessiva di 45 minuti con una traccia estratta 24 ore prima, una lezione simulata e domande estratte sul momento. Il punteggio minimo per superare questa prova è sempre 70 centesimi. Per alcune classi di concorso è prevista anche un'ulteriore prova, ovvero la cosiddetta prova pratica. La domanda si inoltre attraverso il portale www.inpa.gov.it, si accede tramite speed o tramite carta di identità elettronica ed è necessario essere abilitati al servizio distanza online. È altresì possibile accedere alla domanda attraverso la piattaforma concorsi. È necessario pagare in anticipo la quota di partecipazione al concorso che è pari a 10 euro per ogni singola classe di concorso o posto per il quale ci si candida. Il pagamento deve essere effettuato prima della domanda e successivamente allegato la stessa attraverso la piattaforma pago in rete. Vediamo adesso come accedere alla domanda per partecipare al concorso della persona docente della scuola secondaria. Andiamo sul portale del reclutamento INPA e clicchiamo su invia la tua candidatura. Una volta che abbiamo fatto l'accesso verremo trasferite alla piattaforma concorso e procedure selettive dovremo cercare le istanze ancora aperte e cliccare su concorso per titoli di esami persone docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di sostegno a essenzio dell'articolo 3,8 del decreto ministeriale 205 del 2023 di DG 3059 del 2024 e andiamo a compilare la nostra domanda. La prima cosa da fare è cliccare sull'informativa quindi scorriamo tutta la pagina sino in fondo e clicchiamo su presa visione. Una volta che abbiamo preso visione possiamo andare avanti sulla scelta della regione, scegliamo la regione di nostro interesse e clicchiamo avanti. Successivamente ci apparirà una schermata con un riepilogo dei nostri dati anagrafici, i nostri dati di recapito e i dati di residenza. Clicchiamo quindi su avanti se i dati sono tutti corretti. Ci appariono le sezioni. Abbiamo delle sezioni obbligatorie contraddistinte da un asterisco in rosso e delle sezioni invece facoltative. Partiamo dalla classe di concorso e dal titolo di accesso. Clicchiamo su azioni disponibili, scegliamo una classe di concorso e clicchiamo su aggiungi. Nel momento in cui clicchiamo su aggiungi dobbiamo selezionare la tipologia del titolo, quindi potremmo selezionare titolo di studio, titolo di studio abilitazione specifica, titolo di studio 24 CFU, titolo di studio 30 CFU. Nel caso noi avessimo i termini di servizio utilizzeremo titolo di studio e basta, oppure abilitazione specifica e così via. Ci verrà chiesto qual è il nostro titolo di studio. Quindi selezioniamo il tipo del nostro titolo di studio, quindi nuovo ordinamento magistrale, nuovo ordinamento specialistica oppure laurea vecchio ordinamento. Dobbiamo anche selezionare che il nostro titolo di studio è coerente e costituisce titolo di accesso alla classe di concorso. Clicchiamo e scegliamo qual è la nostra laurea magistrale o comunque la nostra laurea che ci dà accesso alla classe di concorso. Dobbiamo poi rapportare il voto di laurea in centesimi. Non dobbiamo preoccuparci, basterà inserire il voto di laurea in centodecimi, inserendo la base della votazione centodecimi e automaticamente la piattaforma trasformerà il nostro voto di laurea in centesimi. Inseriamo la data di conseguimento del titolo, il luogo di conseguimento del titolo, ci si aprirà un menu a tendina, noi selezioniamo l'università o l'istituzione presso la quale abbiamo conseguito la nostra laurea e possiamo salvare. Nel caso dovessimo inserire dei titoli congiunti, sono per alcune classi di concorso, dobbiamo utilizzare questa barra di testo presente in basso sulla pagina. Salviamo e torniamo alla schermata iniziale. Se vogliamo accedere anche posti di sostegno, dobbiamo eseguire la stessa medesima procedura. Inseriamo la classe di concorso del nostro interesse, clicchiamo su aggiungi, selezioniamo con quale procedura abbiamo ottenuto la nostra specializzazione sul sostegno, la votazione, il luogo di conseguimento della specializzazione, quindi l'università presso la quale si è conseguita, la data di conseguimento, salviamo e poi torniamo alla nostra schermata principale. Andiamo a vedere come poter inserire i titoli di servizio. Clicchiamo su titoli di servizio, selezioniamo la tipologia di servizio, quindi titolo valido ai fini dell'accesso oppure altro titolo di servizio. Ad esempio inseriamo titoli validi ai fini dell'accesso, tanto è uguale la procedura per tutti i linei di servizio, dobbiamo inserire l'anno di servizio, ad esempio 2022-2023 e la tipologia di servizio, quindi nelle istruzioni scolastiche statali, la classe di concorso alla quale abbiamo prestato servizio, se abbiamo prestato il servizio nei percorsi di istruzione dei paesi dell'Unione europea, quindi se abbiamo insegnato nelle scuole italiane in Italia dovremmo cliccare no. Se abbiamo svolto questo tipo di servizio in ruolo oppure da supplenti, la data di inizio del servizio, ad esempio 01-09-2022, è la data di fine, ad esempio 31-08-2023. Ricordo che l'anno in corso, quindi l'anno 24-25, non è valido ai fini della valutazione. Inseriamo poi la denominazione della nostra scuola, scegliamo la provincia, inseriamo poi il comune e salviamo. Andiamo a vedere come inserire gli altri titoli valutabili. Ci aprirà una lunga schermata con diverse possibilità, ad esempio l'ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso si riferisce agli insegnamenti tecnico-pratici, infatti vediamo che tutte le classi di concorso iniziano con la lettera B, che denotano appunto l'insegnamento tecnico-pratico. Inseriamo una classe di concorso, qual è stata la procedura selettiva o comunque il percorso che ci ha permesso di avere questa abilitazione. Quando abbiamo conseguito l'abilitazione, l'istituzione che ci ha conferito il titolo salviamo e possiamo proseguire con gli altri titoli. Possiamo inserire il diploma di istituto tecnico superiore, attenzione, non è il diploma normale, si tratta dei diplomi ITS, sono un'altra categoria di diplomi. Possiamo inserire il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, quindi ci occupiamo delle classi di concorso musicali, così come l'idoneità ai concorsi per le orchestre sinfoniche di fondazioni di ricco-sinfoniche, orchestre riconosciute a essenza della legge 14 del 1967 e successivi provvedimenti, sempre i premi che noi possiamo inserire. Altresì possiamo inserire l'aver superato un precedente concorso ordinario, clicchiamo su aggiungi, provvedimento di indizione, dobbiamo inserire il decreto ministeriale dell'indizione del concorso ordinario, selezionare la classe di concorso, l'anno in questo bandito il concorso, quindi ad esempio 2020 o 2023, la data di pubblicazione della graduatoria e l'ufficio che ha pubblicato la graduatoria. Per l'ufficio che ha pubblicato la graduatoria si intende l'ufficio scolastico regionale, l'ambito territoriale regionale, che ha pubblicato la graduatoria. Nel caso di classi di concorso accorpate si fa sempre riferimento all'USR che ha effettivamente pubblicato la graduatoria, quindi la regione nella quale si è espletata la prova orale. Possiamo poi inserire ad esempio dottorato di ricerca, quindi andiamo su aggiungi, inseriamo la descrizione del nostro dottorato di ricerca, l'anno accademico in cui l'abbiamo conseguito, la data sempre del conseguimento, l'area, quindi agraria, ambientale, fisica, informatica, scienza naturale, sociologia, umanistica e così via. L'università o l'ente o l'istituzione che ha permesso di conseguire il titolo di dottore di ricerca, ricordiamoci sempre di salvare e di poter così caricare ulteriori titoli. Possiamo inserire anche un ulteriore diploma di laurea di ricordinamento, laurea specialistica, laurea mestrale oppure diploma accademico di ricordinamento e diploma accademico di secondo livello che siano ulteriori rispetto a quelli che stiamo utilizzando per l'accesso alla classe di concorso. Lo stesso discorso vale per la laurea trennale. La laurea trennale oppure il diploma accademico di primo livello non deve costituire titolo d'accesso alla laurea specialistica con la quale ci stiamo iscrivendo alla procedura concorsuale. Possiamo inserire il diploma di specializzazione universitaria di durata pluriannale non altrimenti valutato. Possiamo inserire anche il titolo di specializzazione sul sostegno. In questo caso, come abbiamo già visto, clicchiamo su aggiungi, inseriamo il grado di istruzione, ad esempio il secondo grado, la procedura con la quale abbiamo conseguito il titolo di specializzazione, data di conseguimento, luogo di conseguimento, quindi l'università, salviamo e torniamo poi alla lista principale. Possiamo inserire il CLIL, quindi il B.4.10 si riferisce al CLIL conseguito presso un paese dell'Unione Europea. Se noi invece abbiamo conseguito la certificazione CECLIL, che è quella che viene fornita dall'Università Ca' Foscari di Venezia, utilizzeremo la B.4.11.1, oppure se abbiamo conseguito la certificazione in una università che sia fisica o telematica, dobbiamo andare sul tasto aggiungi della tab B.4.11.2, purché sia congiunto la certificazione di livello minimo C1 della relativa lingua. Proviamo a vedere. Andiamo su aggiungi, inseriamo la descrizione, la lingua, per esempio inglese, francese, spagnolo, tedesco, la data di conseguimento, l'ente che ci ha fornito la certificazione, dobbiamo poi spuntare il possesso della certificazione minimo livello C1, salviamo e torniamo poi alla lista principale. Per quanto riguarda invece ad esempio le certificazioni linguistiche, anche in questo caso, possono essere valutate, io vi compreso quella che abbiamo utilizzato per la certificazione CLEIL, ma devono avere almeno un livello C1. Come possiamo fare? Andiamo su aggiungi, aggiungi nuovamente, inseriamo la descrizione della nostra certificazione, la lingua, il livello, possiamo selezionare soltanto o C1 oppure C2, la data di conseguimento del titolo, l'ente certificatore e poi salviamo. Possiamo inserire anche i diplomi di professionamento post diploma di 60 crediti con esame finale, devono essere annuali, oppure il master universitario di primo o secondo livello, sempre con un minimo di 60 crediti. Anche in questo caso sarà identico il procedimento, la descrizione del master, l'anno accademico di conseguimento, la data di conseguimento, l'area del conseguimento, ad esempio umanistica e l'istituzione del conseguimento, istituzione e luogo. Quindi l'università è la città nella quale fisicamente si trova l'università. Nel caso di un'università online, telematica, si utilizzerà la sede centrale dell'università stessa. L'ultimo titolo che noi possiamo inserire, tra tutti gli altri di questa lunghissima lista, è il titolo di specializzazione in italiano L2. Anche in questo caso il procedimento è identico, come vedete dobbiamo descrivere il titolo, l'anno accademico di conseguimento, la data, l'istituzione e il luogo di conseguimento. Salviamo e torniamo alla lista principale. Nella lista principale troviamo le altre sezioni da compilare, ad esempio i cosiddetti titoli di preferenza. I titoli di preferenza sono diversi, sono graduati dalla A sino alla N e noi controlliamo nello specifico due titoli di preferenza, il D e l'E. Il D è che abbiamo prestato un lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso. Possiamo selezionarlo se noi abbiamo lavorato almeno un anno e non abbiamo mai ricevuto una nota di demerito dal dirigente. Il ministero ha chiarito infatti con una fac dell'anno scorso che non è più necessario che il dirigente rilasci su carta intestata un attestato che certifichi il lodevole servizio. Abbiamo poi ad esempio i figli a carico, basterà selezionare la preferenza e inserire il numero dei figli a carico. Poi salviamo e torniamo alla nostra lista principale. Abbiamo adesso i titoli di riserva. I titoli di riserva sono molto delicati, abbiamo diversi titoli di riserva come vedete dalla ABCDE MNPRS. Noi ci concentreremo adesso sulla S, ovvero gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Selezioniamo per aggiungere la riserva, dobbiamo inserire l'ente presso il quale abbiamo svolto il servizio civile universale, la data, il numero dell'atto, quindi dell'attestato che c'è stato rilasciato e dobbiamo caricare il certificato. È obbligatorio caricare il certificato. Dunque se abbiamo già in nostro possesso il PDF, caricheremo direttamente quel file oppure dovremmo scannerizzarlo e successivamente poi allegarlo. Abbiamo poi ad esempio la riserva per i volontari in ferma breve o prefissata, basterà selezionare la riserva, inserire l'ente, la data e il numero dell'atto, così come abbiamo già visto. Un'altra riserva è ad esempio l'invalidità civile, quindi selezioniamo sempre l'ente che ha riconosciuto il titolo e quindi l'ha rilasciato, la certificazione, la data e il numero dell'atto. Nel caso noi avessimo selezionato ad esempio invalido civile potremo anche compilare la sezione di iscrizione nei centri di collocamento, in questo caso soltanto se abbiamo la riserva BCD e MNP che si riferiscono a queste prime riserve. In questo caso se noi abbiamo il diritto alla legge 6899 possiamo inserire questa riserva, inseriamo la provincia, gli estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento e poi possiamo salvare. Nel caso noi ci trovassimo in servizio in questo momento e dunque non risultassimo iscritti materialmente negli elenchi di collocamento obbligatorio, andremo a cliccare la seconda opzione e dovremo indicare la data e la procedura concorsuale nella quale abbiamo già presentato la stessa medesima riserva. Salviamo e torniamo qui alla lista principale. Altre dichiarazioni. Le altre dichiarazioni si compongono di una lunga lista di dichiarazioni che noi dobbiamo rilasciare tra cui anche il versamento. Vediamo però come poterlo fare perché noi dobbiamo prima pagare la quota di partecipazione, scarica la ricevuta e poi dopo allegarla, altrimenti non possiamo inviare la nostra domanda. Se noi torniamo alla pagina principale, vedremo che in fondo in una tab di colore blu scuro abbiamo file click qui per procedere all'emissione del bollettino per il pagamento dei diritti di segreteria. Noi clicchiamo e veniamo direttamente reindirizzati presso la piattaforma Pago in Rete. Noi pagheremo l'importo totale, ovviamente dobbiamo ricordarci di inserire tutte le classi di concorso per le quali vogliamo partecipare, quindi possiamo partecipare a una classe di concorso oppure a due classi di concorso se abbiamo l'accesso sia per la scuola seconda di primo grado che di secondo grado, ma se abbiamo accesso e abbiamo intenzione di partecipare anche per il sostegno possiamo inserire anche quella classe di concorso, dunque le opzioni di pagamento saranno 10 o 20 o 30 o 40 euro. Noi effettuiamo il pagamento, scarichiamo la ricevuta e ritorniamo alla nostra piattaforma concorsi. Clicchiamo su altre dichiarazioni che sono obbligatorie, come vedete non tutte hanno l'asterisco rosso, ad esempio il servizio di leva o gli ausili ai tempi aggiuntivi non sono obbligatori. Andiamo sulla dichiarazione A, dobbiamo dichiarare di essere cittadini italiani oppure cittadini di un paese dell'Unione Europea con una buona conoscenza della lingua italiana. Dobbiamo dichiarare di godere di diritti civili e politici. Non obbligatorio è il servizio di leva, dunque per coloro che erano soggetti all'obbligo devono spuntare il servizio di leva, altrimenti per tutti gli altri non è obbligatorio. Le liste elettorali, quindi di essere iscritto nelle liste elettorali del comune e dobbiamo inserire il comune di residenza, di possedere l'idoneità fisica, di non aver riportato condanne penali o provvedimenti equiparati, di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi, di non essere mai stati distituiti, dispensati o licenziati dalla pubblica amministrazione. Nel caso noi godessimo della legge 104 dobbiamo e possiamo anche inserire gli ausili ai tempi aggiuntivi. Inseriamo in questa barra di testo di quali ausili abbiamo bisogno seguendo la nostra certificazione 104 che riporteremo stringatamente nella seconda barra di testo. Inoltre possiamo aggiungere anche i tempi aggiuntivi, se abbiamo bisogno di tempi aggiuntivi, e la data del rilascio della certificazione 104. Abbiamo poi il versamento, clicchiamo sull'avere effettuato il versamento e carichiamo la nostra ricevuta. La ricevuta deve essere in file pdf oppure zip di un massimo di 5 megabyte. E infine il trattamento dei dati personali. Salviamo e torniamo alla lista principale. Abbiamo un'ultima sezione che si chiama allegati. In questo caso noi possiamo allegare solo ed esclusivamente, ad esempio, le attestazioni in cui si evinca che abbiamo richiesto l'equipollenza di un titolo estero. Altrimenti non dobbiamo allegare nessun tipo di file. La nostra domanda adesso è pronta. noi inoltriamo attraverso il tasto inoltre, ci verrà inviata un'email di riepilogo e potremo scaricare il file pdf appunto di riepilogo della domanda. Vi ricordo che è possibile compilare la domanda fino al 30 dicembre, fino alle ore 23.59. Anche una volta inoltrata la domanda noi possiamo modificarla se ci rendiamo conto di aver commesso un errore o di voler aggiungere qualcosa da valutare e possiamo modificarla ogni qualvolta vogliamo entro la dati scadenza. Questo è tutto, vi auguro una buona giornata.